E con il numero 18, zero! Con il numero 3, quanti ragazzi? Con il numero 23, sei atto! E con il numero 16, Raul! Con il numero 15, Martellini! Zero! E con il numero 13, Giuseppe! Con il numero 77, Davide! Il numero 8, Reggio! Con il numero 32, Matteo! E con il numero 17, Gianni Sohn! Venga il numero 18! E! La efficacia è passano! Die e va Maria! Improbate le Ti ыт